ice cream maker gelato conosci questo esercizio per approcciare il front lever se fare almeno 10 12 vaga 15 trazione a seconda del tuo peso corporeo prova a fare l'ice cream per approcciare quello che è l'esercizio e capire se percepisci bene le attivazioni in tap front lever quali sono le sensazioni che devi avere parti da aumento sopra la sbarga o fronte alla sbarga penserai come sensazione a alzare il bacino mentre ti spingi indietro come sensazione ricercherai questo allontanoti dalla sbarga entrato in isometria del fronte vai tenere le scapole neutre depresse e stendere bene le braccia facendo questo allo stesso tempo non dovrai alzare troppo il bacino per entrare in isometria non fare questo errore quindi l'esecuzione corretta qual è parto fronte alla sbarga rannicchio le gambe piano piano entro in isometria stendo attivo le scapole e faccio questo se vedo che riesco a gestire bene l'isometria mi alleno da tempo sono condizionato posso provare inserire questo esercizio nei miei allenamenti per approfondire l'argomento guarda il mio canale youtube o il mio gruppo facebook www.mesmerism.info www.mesmerism.info www.mesmerism.info